L'assessore alla salute Baldo Gucciardi non poteva far visita a Messina a mani vuote in occasione del convegno pomeridiano sulla sanità. Ha deciso così di portare la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di accorpamento IRCS Centro Neurolesi Ospedale Piemonte. Il governatore della regione Crocetta lo ha firmato nella serata di martedì data dello sciopero degli operatori sanitari ma con ben tre mesi di ritardo. Le emergenze della sanità messinese sono numerose e una rappresentanza dei sindacati provinciali ne ha discusso mercoledì mattina durante l'audizione in sesta commissione con i deputati Picciolo, Grasso, Rinaldi e un componente del capo di gabinetto, il direttore generale dell'azienda Papardo Vullo, un delegato dell'IRCS, dirigente amministrativo Testa I, con particolare riferimento al decreto di accorpamento. Il governo regionale ha mostrato sprezzo delle istituzioni in questi mesi, puntualizzano le sigle sindacali. Il decreto può attuarsi entro 90 giorni come recita l'aspetto organizzativo e si può assumere per esempio i precari da salvaguardare. Approvati atto aziendale e pianta organica del Papardo, sarà necessario un reclutamento di sei medici del pronto soccorso tra Papardo e Piemonte che fa capo ormai al centro Bonino Puleio, strada maestra per evitare carenze. Almeno otto specialisti che coprano i tre turni giornalieri. Si capirà finalmente se gli oltre 8 milioni di euro sottratti al Papardo basteranno all'IRCS. Con la legge 161 devono passare 11 ore consecutive di riposo fisiologico per i medici. Ci saranno pesanti sanzioni per i manager che non fanno applicare la legge. I sindacati gridano no alle prestazioni aggiuntive da 600 euro nel turno notturno per i medici d'emergenza. Al Papardo dovranno essere 16 medici per il pronto soccorso, 147 risorse umane saranno solo per l'IRCS.